Vogliamo augurarvi un buon Natale, mi raccomando con il panettone alla mostarda e andate al cinema, ma non andate al cinema a casa, andate al cinema a vedere Enrico il povero e il maggiordomo che è un film molto divertente, molto pregnante, molto interessante, molto coinvolgente e molto... Enrico il pavero e il maggiordomo, inrico il pavero e il maggiordomo...